La cupola, la prima lì, la più a destra, la prima. Quella è accanto in Minarendi, quella è la moschea, accanto alla sinistra e quella è il bensiceo greco. Come stiamo? Ah, quella è la chiesa bulgara, certo. Vedi? Adia, mi amore. Quella di ferro, la ditta. Essa è nel rio, praticamente.